No ma guarda, noi veramente la viviamo in una certa serenità e tranquillità, anzi ci siamo detti dopo la partita con Foggia, se giochiamo in questa maniera, con questa intensità, con questa cattiveria, con questa concentrazione, alla fine saremo noi a gioire perché alla fine dei conti, se affronti le partite e giochi in quella maniera, vinci e gioisci. Fino a questa partita qua abbiamo avuto ragione, quattro partite, quattro vittorie, Salernitana, cosa dire, è una squadra regina del campionato, ha vinto il campionato, complimenti e niente, a noi ci tocca per sperare dobbiamo vincere, è inutile nascondersi. Ecco Ivan, siete consapevoli che chiaramente dipenderà non solo da voi, perché voi dovete vincere e poi sperare che una delle due, Juve Stabia e Matera, non facciano punti o comunque almeno pareggino? Certo, per fortuna, tra virgolette, giochiamo tutti allo stesso orario, quindi sei concentrato alla propria partita e poi basta, a fine vedi, se hai vinto speri in quel momento, però non è che sei condizionato durante la partita, riguarda gli altri risultati, devi vincere in primis tu per poter sperare, quindi io penso comunque che saranno tutte le partite vere, combattute, perché a nessuno piace perdere, voglio dire, e comunque siamo fiduciosi. Sarà una Salernitana decisamente più motivata rispetto a quella di Messina, proprio perché loro da luni i tifosi stanno caricando particolarmente questo derby, quindi sarà una partita ancora più difficile? Sicuramente, oddio, fino a un certo punto, voglio dire, loro hanno vinto, magari anche inconsciamente hanno mollato, tra virgolette, perché comunque quando vivi una nata del genere, come l'ha vissuta Salernitana, che le pressioni sono enormi, hanno combattuto contro Benevento, tutto il resto delle squadre importanti, ecco, del girone, arrivi comunque cotto, tra virgolette, quindi noi non ci appelliamo a quello, noi semplicemente siamo consapevoli per poter battere Salernitana, anche in quelle condizioni che stanno loro, deve essere la migliore casertana, quindi cerchiamo di fare la migliore gara possibile.